Ultimamente Isma ha preso la pessima abitudine di governare il paese alle mie spalle e io ho deciso che deve piantarla Allora, io ho doppiato Isma che è la consigliera dell'imperatore però è un'infima consigliera nel senso che profondamente vuole prendere il posto dell'imperatore e utilizza tutti i mezzi quindi da una parte è un personaggio un po' cattivello dall'altra parte è un personaggio che poi finisce, non lo possiamo dire, ma insomma un po' punito quindi fa anche un pochino teneretta è disegnato in maniera adorabile, ha due occhi grandissimi, quattro ciglia solo che spuntano e soltanto i denti qua davanti però è secca secca come un teschio e sempre parla aprendo la bocca e sembra un piccolo pozzo, una voragine l'attrice che l'ha doppiato in lingua originale è bravissima quindi sono onorata, stipulata di aver cercato di fare anche quello che ha fatto lei secondo la legge della Disney per cui bisogna essere molto fedeli all'originale del personaggio se somiglia a me Isma o se io somiglio è difficile prendere sul serio un cartone e quindi comunque non sono in grado di attuare tutte le strategie di Isma e non mi è capitato mai di voler prendere il posto di qualcun altro perché sto bene nel mio ci sono più difficoltà a doppiare un umano piuttosto che un cartone animato per quanto mi riguarda perché insomma in un cartone animato c'è una grande quantità di gioco che ti travolge c'è una grande quantità di effetti quindi tutto sommato forse pur nel rispetto appunto il doppiaggio originale non c'è un'attrice famosa che tutti conoscono alla quale poi tu un po' con rispetto ti devi informare quindi forse è un pochino più facile per certi punti di vista doppiare un cartone animato anche se invece altri attori sostengono che proprio questa quantità di gioco questa quindi quantità questa messe anche di variabilità vocale eccetera può anche aumentare la difficoltà a me è piaciuto molto anche l'ho fatto vent'anni fa lo facevo anche prima di cominciare a lavorare diversamente lo facevo e ho fatto abbastanza insomma e mi è sempre piaciuto Isma trasforma in lama questo imperatore si poi c'è tutta una storia di veleno se io lo farei chi mi piacerebbe avvelenare forse in qualche fantasia ho pensato qualche volta di farlo ma proprio non avrei neanche il coraggio di confessarla ad alta voce quindi dico difficile ma insomma le persone violenti sicuramente se vogliamo parlare sul serio sono le persone che io respingo di più avendo una bambina di otto anni conosco tutti i classici della Walt Disney ed è difficile preferirne qualcuno senz'altro un po' Biancaneve e anche La Bella e la Bestia, Cenerentola, Aristogati sto dicendo tutti classici un po' tutti tutti penso che potrebbe piacere forse ci sono molto scene forti forti nel senso andiamo via conquistiamo di guerra però ci sono anche tante sfumature piacevoli tanti incidenti allora lei che si stuppa tutta in una paluda e poi che diventa un un uccello spennato e tutti i bambini si giocano quindi ci sono molti effetti penso che i bambini si divertiranno moltissimo i nostri personaggi il mio personaggio è Cusco un giovane re imperatore anzi che viene trasformato in un lama da una sua consigliera gelosa e invidiosa che lui oltretutto ha appena licenziato mentre il personaggio di Paolo è Cronk, accidempoli come sei bravo il mio personaggio si chiama Cronk è questo bonaccione che commette un sacco di azioni cattive nei confronti di Fusco perché appunto trascinato da Isma che è una bruttissima compagnia per lui in realtà lui è un tontolone non gli capita credo mai e nel fin di capire una cosa alla prima volta in cui glielo dicono non capisce mai niente quindi è piuttosto buffo mi ci sono ritrovato molto cosa hai detto? no non ho detto niente quindi questo è Cronk in senso buono ovviamente io più o meno sono la metà fisicamente e anche rispetto al doppiatore americano che ho visto del quale ho visto una foto è un mastodonte quindi non ci sono molte somiglianze fisiche e neanche intellettuali no a me invece un po' somiglia sia fisicamente è bello che eh vabbè non mi hai detto di essere bello e anche in certi lati del suo carattere un po' mi assomiglia è dura è dura soprattutto perché hai a che fare con dei mostri perché questi attori americani che sono le voci originali del film sono veramente molto bravi e loro hanno la fortuna che come dire che molte volte i personaggi vengono disegnati su di loro mentre noi qua dobbiamo adattare tempi e modi ai loro tempi e ai loro modi che a volte sono geniali ma difficili sottoscrivo pienamente ecco ma dico hai visto faccio paura a dire la verità sono la parte cattiva di una coppia buona nel senso che sono sono il insomma la vicinanza con pace mi renderà buono ma all'inizio non sono tanto buono d'altra parte si può dire che lui è la parte buona di una coppia cattiva credo si direi di si insomma in molte scene lui viene trascinato a fare cose che poi in realtà non vorrebbe fare poi infatti si concentra sulla cucina su altre cose quando c'è da sferrare il colpo finale è sempre deconcentrato perché pensa alle cose sue io grazie a lui ho vissuto l'esperienza di doppiare un film di disney che mi sembra positiva come cosa altrettanto è un film di cui la cosa che ci ha impressionato di più la prima volta che l'abbiamo visto è stato proprio il ritmo che è un film che ti prende e non ti molla più per cui non c'è una scena secondo me particolarmente più divertente delle altre perché ogni secondo succede qualcosa quindi si poi c'è quasi la totale mancanza delle scene un po' sdolcinate o più dolci più tenere che è particolare anche dei cartoni animati oppure di altre cose che ho visto di disney e questo a me piace perché essendo adulto magari amo di meno quelle parti qua invece è un ritmo incalzante e quindi insomma non ti dà tregua a me mi sarebbe visto pronto di doppiare Pinocchio e tu? gli aristogatti tutti? sì il mio personaggio è Paccia Paccia è un contadino un grosso contadino un contadino buono che si trova a che fare con l'imperatore del posto l'imperatore del posto nella storia poi cambia muta diventa un'altra cosa che non vi dico perché mi interessa vedere il film e poi e quindi tra l'attraverso ci sono delle traversie praticamente i due si conoscono si trovano vivono praticamente tutta la parte del film insieme ed è alla fine che la bontà vince sulla cattiveria quando la cattiveria naturalmente perde ed è costretta a perdere è un personaggio diciamo tutto d'un pezzo nel senso anche grosso della parola perché è un bel personaggio e profondamente ripeto buono ha dei momenti in cui si prevede anche una certa stupidità ma non lo è è la sua bontà che lo porta anche a essere ingenuo quindi probabilmente anche stupido in certi momenti il cartone animato è più facile ma anche più difficile in un certo senso perché mentre diciamo un attore in canne d'ossa ti dà la possibilità attraverso le espressioni di riempire e di incollare come diciamo noi in gergo del doppiaggio e con cartone animato invece bisogna aiutarlo nell'espressività quindi diventa anche più più difficile in un certo senso anni fa in una terra lontana prosperava un regno governato da un giovane imperatore aveva un bel caratterino mi hai rotto il ritmo mi spiace nonnetto ma hai rotto il ritmo dell'imperatore una consigliera malvagia si è licenziata prenderò il suo posto e governerò tutto l'impero un problema molto serio lo avvelenerò con questa ehi Kronk dammene ancora un goccio fai il favore un lama? doveva essere morto stecchito ah strano portalo fuori città e finisci il lavoro la sua unica speranza era un umile contadino un demone un demone? dove? mi hai rapito perché dovrei rapire un lama? sei duramente criminale non io cosa? dimmi che cosco è morto beh non morto morto come speravamo oh oh no 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 aspetta no 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 la presa è salta a vostra altezza adesso è al sicuro o forse no non mi toccare perché sto rischiando la vita per un egoista antipatico sono stato proprio cattivo cattivo lama ora oh perché a me l'imperatore ha un nuovo look un nuovo compagno se vogliamo salvarci dobbiamo collaborare l'hai fatta apposta vero? meno male che non sei un bestione grande e grosso se no sarebbe stato proprio difficile uscirne è un ritmo tutto nuovo scampioni ma che fai? Walt Disney Pictures presenta io sono il peggiore le follie dell'imperatore oh oh non dirmelo ma stiamo andando verso un'altissima cascata già con massi appuntiti? è un classico e andiamo Masqua 2001 nei migliori cinema